Perché si ha così tanta paura di amare? Perché tu hai così tanta paura di amare? Perché lo faccio incondizionatamente molte volte, mi sento di donare così tanto di me che quasi mi spaventa e quindi in questo caso appunto il rumore a cui parlo, in cui parlo appunto alla mia attuale ragazza, c'è stato un periodo tra noi due in cui io avevo deciso in primis di allontanarmi proprio perché avevo paura di innamorarmi di nuovo, a dare così tanto di me, a andare senza freni inibitori. Poi alla mia età e con la fortuna di vivere la vita che vivo, di fare ciò che mi piace, molte volte mi dimentico di frenare un po' le emozioni, le giornate, tutto quello che mi capita e l'amore è ciò che poi mi smuove tutto. Io ho notato una cosa, sarà che sono ossessionato dai dettagli. Tu ci hai tatuato il minotauro. Sì. L'amore è molte volte, no? Un incontro fra la parte razionale e la parte animale, proprio come sta nel mito del minotauro. Che cosa pensi di questa nostra ossessione di dare una definizione all'amore in tutti i sensi? Ma io ho avuto la grande fortuna di crescere in una famiglia, di avere un papà, una mamma che mi hanno insegnato a rispettare il prossimo e ad amarlo, a prescindere da ciò che è o vuole essere o vuole diventare. Ormai sono passati più o meno 130 anni, da quando Oscar Wilde si trova davanti alla giuria, al giudice di un tribunale e viene accusato di essere uno che aveva degli amori illeciti, illeciti, cioè che non vanno bene per la legge. E in quella situazione Oscar Wilde davanti a tutti pronuncia delle parole bellissime. Dice, esiste un amore che non osa pronunziare il proprio nome, un amore che non si può dire. È di poche settimane fa la notizia in Italia di una coppia di due donne che sono stati allontanate da un locale d'estate perché si tenevano per mano. Per quale ragione l'imbecillità, perché così va chiamata, non riesce ancora ad ammettere che due donne possano stare insieme ed amarsi e tutto questo viene ancora nel terzo millennio in cui tutto quanto ormai sembra lecito ritenuto illecito? Perché è una risposta che vorrei avere tantissimo anch'io. perché credo che tante volte è molto più facile per certe persone adagiarsi nella propria ignoranza piuttosto che aprire gli occhi e vedere che il mondo va avanti lo stesso anche se si amano due uomini, due donne, se una ragazza nasce biologicamente donna ma sente l'impulso di voler cambiare la propria vita e sente l'impulso di voler affrontare un percorso di transizione. Cioè un uomo o una donna che sono omofobi o comunque hanno comportamenti scorretti, vogliamo chiamarli così, nei confronti delle persone che cercano semplicemente di vivere la propria vita e il proprio amore in totale tranquillità dovrebbero semplicemente capire che le loro giornate vanno avanti comunque, comunque si svegliano, si prendono il caffè e vanno a comprare il giornale e poi la sera si rimettono a letto anche se accanto a loro incontrano una coppia di due donne piuttosto che di un uomo o di una donna o di due uomini. L'amore è una cosa libera e personale però a te non deve importare chi amo io.